Credo che sia fondamentale anche fare i conti proprio con la propria coscienza e soprattutto con ciò in cui si crede. Una forte divergenza anche nel modo di intendere le relazioni politiche e istituzionali all'interno e all'esterno, appunto di quello che poi è il luogo della politica, alla fine si hanno spinto a fare questa scelta sofferta, ma che credo sia quella più coerente con il mandato che ho ricevuto dalle persone che mi hanno votato per quel modo di intendere la politica. È una bufera politica quella che scuote il comune di Bassano del Grappa, con un atto che non mancherà di scatenare reazioni e polemiche all'interno della maggioranza guidata dal sindaco Riccardo Poletto. Mattia Bindella, eletto nella lista Bassano per tutti, in forza la maggioranza con le deleghe alle pari opportunità e alla legalità, ha rassegnato le dimissioni da consigliere comunale e le sue dimissioni sono un atto dalle forti motivazioni politiche. Una critica forte, aperta e franca sul modo in cui è stata condotta l'attività amministrativa durante questa legislatura. Uno dei problemi che ho riscontrato è proprio il ruolo dei consiglieri comunali in quanto rappresentanti dei cittadini. Il consiglio comunale non è un semplice luogo di ratifica, ma dovrebbe essere il luogo della decisione e del confronto. E quindi credo che proprio i consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza dovrebbero essere maggiormente coinvolti in questo percorso. Qualcosa che evidentemente secondo Bindella non è avvenuto in questi anni, dove le scelte sono state prese altrove, relegando i consiglieri ad un ruolo di semplice ratifica, ma per Bindella è anche mancato il rapporto con la città, la partecipazione, il coinvolgimento dei cittadini. Spero che questo gesto, a concluso, possa servire a migliorare, a dare una scossa, a far cambiare qualcosa. Sicuramente un gesto forte che avrà conseguenze sul prosieguo della legislatura.